Ecco qui, al Chiostro della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Pasciatrice del Sud Africa. L'arrivo della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Trinità. L'ambassatore della Repubblica, l'arrivo della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Trinità, a Bica e Quenze, l'arrivo della Trinità.